Partito il cantiere per la riqualificazione del porto di San Marco di Castellabate, gli interventi sono finanziati con oltre 5 milioni di euro dalla regione Campania, attraverso i fondi destinati alla messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione turistico-economica del sistema portuale regionale. Lo scopo dell'intervento è rendere la struttura resistente ad eventi meteomarini straordinari, con opere strutturali per il rifioramento della mantellata del molo di sopraflutto. Operai specializzati su imbarcazioni da cantiere si sono messi a lavoro in questi giorni. L'assessore delegato al porto, Marco Di Biasi, dichiara sull'avvio dell'importante cantiere quanto segue. Un'opera pubblica di grande risalto per la sicurezza di uno scalo importante anche a livello turistico, grazie ai collegamenti via mare con la costiera Capri e il resto del Cilento Marittimo. Inoltre andremo ad apportare un miglioramento atteso dagli operatori e dai fruitori del porto, soprattutto per il settore della pesca e del di porto.